Cari amici, questa sera sono un po' triste perché mentre tornavo prendevo visione del ennesimo gioiello italiano Veneto anche per la giunta che passa di mano. Passa di mano la catena degli alberghi Boscolo, Boscolo Hotel, al fondo americano Varte che ne rileva tutto. Ora senza entrare nel merito di questa scelta della famiglia Boscolo direi che lo spunto è questo qua che ne ricaviamo da questa notizia qua. Com'è che possiamo noi prevenire i black point o le fonti di rischio della nostra attività? Ecco questa dovrebbe essere un'attività cioè il fatto di mappare e prevenire le fonti di possibile rischio può portare ad evitare questo genere di fatti poi. Spesso l'imprenditore è portato a ragionare in propositivo, in positivo, proattivo, essere sempre dinamico eccetera ma tante volte pensare anche alle fonti di possibile problematica è un'attività vera e propria. Io lo faccio da molti anni e consiglio a voi tutti di farlo perché è straordinariamente educativo. Cosa farlo e come farlo? Beh molto semplicemente vi mettete lì e cominciate a definire le aree di rischio, a definire il perimetro del rischio e a definire gli scenari possibili di questo rischio ed eventualmente a elencare come vi comportereste se questo esercizio è un esercizio veramente di sana prevenzione che vi consiglio di fare assolutamente e che io da molti anni faccio. Quindi colgo l'occasione anche per sollecitarvi il commento come sempre siete molto 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 numerosi. Cercate di commentare, cercate di andare sul mio blog mircogasparotto.it. Alla fine di questi due minuti di gas manderò anche lo spot del mio gruppo così più di qualcuno che mi chieda ma cosa fai tu eccetera vede cosa fa il mio gruppo e di cosa mi occupo e vi auguro buona serata e buonanotte. Grazie a tutti.